Allora, ora ti fidi quel carro, ok? Mi dici il carro? Sì A me No, così lo usiamo uguale, hai capito? Vediamo se è uguale Vai, vai Allora, io la vite devo mettere Sì Mamma mia, quante cose che ci stanno Metto 35 30 30 30 E il 2V come faccio? Azzine di gioco Ah, attivami la mappa Sì, ci sta Ci sta con lo Radar sempre attivo Radar sempre attivo ho messo io Radar sempre attivo, può tanto? Esatto, l'abbiamo Ragazzi, cambia subito il titolo della live Comunque, scusatemi Buonasera a tutti Buonasera, sto cambiando titolo Perché questo titolo va messo Ciao Andrea, buonasera Francesca Ciao Laura Beh, ladri Ragazzi, qua partono le sfide 50 euro a game, ve lo dico Non sto scherzando 50, dovremmo farlo dopo anche con l'SPR Se lo conosci Ragazzi Oh, ma che fate il mio joystick Bella Andre, ciao Fabrizio Mira, no, no, a me non piace il calcio Ok Allora, io la vita che non gioco uno contro uno Te lo dico Buonasera Luigi Ciao Martel Mettro un po' di più Dai, dai, uno contro uno tutti Ragazzi, uno contro uno tutti Guarda, metto pure la musica Ah, il car non ti ho detto No, vabbè, non metto la musica perché guarda Bubble Sud Accedi alle opzioni Capito Aspetta, devo alzare la sensibilità Aspetta anche io che devo alzare le mani Ah, che botte che sei Un botta a pedali Dai, dai, fai sta kill, va Dai, botta a pedali Te la faccio io la kill, se no non ti muove Sto aspettando te, ma dov'è che stai entrata? Ma non hai messo radar sempre costato? Ah, sì Eh? Non ti sta, non ti vede Non è che c'è fantasma molto scorsa No, io non posso avere fantasma Non mi vedi? No, non ti vedo sulla mappa Dico, mi piace Però Non va bene che non mi vedi Mi dispiace Guarda, così mi vedi Madonna mia Wow Wow Bravo, mi ho fatto la cazzona Dai, l'ho fatta apposta Un po' per Per darti questa kill in vantaggio Sennò poi Piangi Non ti voglio sentire sinceramente No, scu' Fantastico, fantastico ragazzi Buonasera a tutti Benvenuti streaming Ah dai, dai Voglio farti una cosa strana Non te la faccio mai Ragazzi ci stiamo riscaldando In uno contro uno col cecchino Che sono tipo 15 mesi Che non lo faccio Wow Una cosa Ma tu la sensibilità Quanto la tieni? La aumenti? 18 18 Guarda, allora aspetta Tu mi consiglii Aumentarla qui 18 18 18 Tu ti pazzo Ma tu 13 Quanto giochi tu? 13 Io anzi abituato Ma che cazzo è 13 Ma si è giocato 9 9 Ma dove stavi? Ma io ti vedo sulla mappa Non so Mi vedi? Ciao Maria Buonasera 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 Oh vabbè Il mio colpo non è entrato Però Adesso te lo dico Ah ah Scusi Ultimo colpo Buonasera Bravissimo 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 Adoro 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 Ah ma tu ti resti il PR Bastardo Ma no no vabbè no cosa devi andare a vedere bellissimo ragazzi questa senza non avete capito bastardo non ti vedo ci dovessimo allenare ogni giorno qua diventiamo dei mostri è dato modo de cazzo ciao ciao bubble fantastic ciao giovanni buonasera sono di fronte a te non è vero mamma mia ragazzi devo imparare un sacco di cose non potete capire cioè troppe troppe è completamente diverso dai vabbè dai vabbè dai dai non ti preoccupare bubble che se mi incazzo manco una kill ti faccio fare guarda poverino ragazzi quanti di voi con gli amici o non amici anche fanno uno contro uno io l'ho visto cazzo fanno uno contro uno e si dicono le peggio parole ragazzi io sono molto competitiva e se perdo mi incazzo non non mi blocca sì ragazzi dovessi perdere lo blocco ma guarda dove è arrivata domanda tu mi vedi sono a partire io sì ti vedo ti vedo non so se è fantasma non trovo la motivazione per lavoro io vabbè bravissimo non trovo la motivazione ciao simone buonasera ti spacco dai 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 è inutile che stai là sopra no va bene bellissimo 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 veramente non ho munizioni scusa non devo scappare beccatista pigna ma che dico eh aspetta dove sei oddio un colpa celote la piccola no ragazzi se qualcuno vuole fare uno contro uno cioè fatevi avanti il momento che pollo è veramente pollo in combina guai guarda guarda pollo in combina guai bravissimo bravo 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 dove vai pappa molla guardati questa kill che ti faccio ora pappa molla guardati questa kill che ti faccio ora pappa molla cazzo ragazzi non potete capire bravissimo ciao mirko non aspettavo che entrava no 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 abbassa la live aspetta non abbassa la live bravo bravo ma dove cazzo ma dai comunque non conosco per niente la mappa veramente laghi sto cercando di capire ragazzi quanto risposto tutto ecco infatti adesso un pubblico ovvio che non mi hai visto sembra da un faccia ok ok ma 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 dove sei aspetta ma no vabbè sto laggando sto laggando sto laggando non so se mi devi laggiare no cazzo mi dispiace del lagghi penso una cosa dopo vediamo vediamo un po' se magari assi tu aia bravo allora io ho capito una cosa mi sono ricordato da quanto pesce prendevo prima di diventare quel poco forte che sono ragazzi mamma mia io facevo uno contro uno della mattina alla sera guarda che schifo quanto mi incazzavo mamma mia non devi scappare ragazzi non potete capire quanto mi mi arrabbiavo no c'è di brutto no vabbè no vabbè no vabbè no no dove stavi no 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 lo so manco io non lo so manco io non da guardare guarda che sono guarda che sono sotto l'immagine wow oh l'ultimo porto in canna scappata già sono veramente ancora ragà non glielo dite no way basta adesso è finita per te perché però vabbè dai eroi host quindi non si sa perché voi non potete capire le scuse pur di non dire che ho vinto no ma io l'aggavo no ma tu sei host no perché allora sono sempre così ragazzi ciao simone buonasera ciao giovanni vera davide arrivo senti che scarso vabbè mentre aspettiamo gli altri intanto sai che c'è pure partita veloce no ci facciamo una partita privata personalizzata sai che cosa ci facciamo io voglio quelle modalità un colpo in canna gioco delle armi ciao oh gioco delle armi in tre va via mi piace robie sono contentissima ragazzi se voi volete giocare se voi sostenitori volete giocare ci sono dei posti potete entrare ok l'M13 mamma mia ragazzi mi vedete la mia mappa no io non mi vedo voi io nemmeno come siete non sento manco l'audio ma bubble c'è raga eh non è ancora entrato ma non posso che la fa gioco degli armi in due questo che altro capito ma è quello bubble noi non ti sentiamo queste laghi beh l'uomo io lo sentivo mamma che arma del merda che tengo regà non ti sento vende il pesce madonna no no ragazzi no così non mi fregate dai 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 uno contro uno ti spacco la zia ti spacco no l'hdr no l'hdr c'è piaceremo di muscia col pompa mi fa bastardo oh sì godo come un riccio appena sponato cazzo mamma mia rega mamma mia ma godo proprio forte cioè nel senso guardate aspetti di arrivare all'arenette roba mamma mia bubble bubble ma il pesce vieni qua fratelli dove sei andato babbo non parli perché sei tipico mamma mia ma godo a terrore sta cacchio di renetti mamma mia ma godo a terrore sta cacchio di renetti guarda aspetta che arrivi a quest'arma e ne riparliamo non ti preoccupare ok va bene ragazzi non vi preoccupate va bene no ma tranquillo nel senso bubble vieni qua che ti spacco uno contro uno quello che ti meriti mamma rimma bucaiola bubble mamma mia rega rega roberto è vicino alla vittoria roberto è carica va sempre più avanti invece che tornare indietro ho visto bro non ti preoccupare non ti preoccupare no raga io vi dico una cosa che voi non sapete ma non ve la dico praticamente col thumb walk si torna indietro ah non c'è non è come quello di black ops 2 no raga c'è un'arma bruttissima veramente veramente brutta veramente brutta raga che cazzo è male ma no 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 raga quest'arma che ho ho la più brutta ce l'ho io non c'è 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 non barbie l'ha fatto l'ha spaccato ti vedo ti vedo ti spacco un'altra volta mamma mia no 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 ritirati bubble questo è per te bubble no cazzo no no perché no è una botta come cazzo ho vinta ragazzi ragazzi come l'ho vinta no 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 ho la mario di silva uno di questi si è saltato troppo ma dai andrea si fa tutto tutto bella patrick buonasera ciao tommaso bella agostino francesca ciao ragazzi allora se volete entrare ragazzi potete entrare tutti tutti dai dai invitiamo invitiamo pure andrea colletta invitiamo tutti e giochiamo gioco delle armi e non mi fa andare indietro ok si babbo ma perché è mutato ok ma non ti ho mutato non ti sentivo sarà un culo mi hai mutato bene bene ma no ma come ti sei permesso ma che cazzo dici allora ragazzi andrea dove andrea non c'è parla parla ma la fine raga facciamoci un reverto intanto e poi appena arrivano gli altri facciamo giochiamo ancora bullismo da prendere un po di coca cola ragazzi comunque come state ragazzi tutto bene apposto adoro giocare al gioco delle armi è troppo bello raga fidatevi sperate come fatti non c'è non c'è non c'è Oh, baby, dance Oh, my love, please tell me if you want that to Oh, yeah, yeah Oh, my God 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 barbie? beh non lo sento nemmeno io una bella ma sta parlando o? no 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 ah ok 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 allora bello ragazzi buonasera a tutti ciao vincenzo buonasera bella carmen e francesco gaitano grazie per il like ciao che ecco si si ne hanno riscattati 7 di sabba oggi comunque di notte è una merda non è vero è bellissimo andiamo contro oggi ho però ho battuto il mio record di kill qua in singolo in singolo si si manco ti dico quanto ho fatto perchè tanto manco c'è arriva cazzo eccolo raga qua uno mamma mia questo ci avrà quindi le fps non tanto valga mi spargo buonasera massimo ciao francesco come state? è 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 luigi ragazzi luigi è mio come si chiama come si chiama quello che aspetta lui ma mi viene in mente il nome aspetta tipo quello che ti dice che ti da positività dai dai ce lo puoi fare dai scusa trova i tasti 3 mesi di 1v1 a scelta raga io voglio dire tipo 2v2 a farlo punto di domanda adolfo grande adolfo tu sei un grande adolfo io non vedo mai spesso i tuoi commenti mi fa piacere quando entrano nuove persone in chat perché a volte bullizzare sempre gli stessi sub invece più siamo meglio è capito che un bullismo continuo un circolo infinito di la zona di guerra vi aspetta adolfo a te non ti conosco vincenzo rai ragazzo ma senza vpn beh io ultimamente non sto giocando con vpn ma perché proprio vpn che filo no no intenzione non funziona non funziona più ma questo che cazzo è c'è questo arriva a esce non la fatemi vedere bravissima parca troia niente ragazzi sarò spaccato non è morto non è matto che c'è da dove non c'è da un ca no no ammirate come si prende il pesce alle 10 di sera ragazzi ragazzi se volete il pesce fresco no la mattina la sera potete venire su call of duty oggi che è sicuramente fine settimana ve lo giuro io non so mai che giorno è ok non lo so mai che giorno è oggi è fine settimana me lo potete dire oggi è tanto che sai come ti chiami è domenica lunedì che giorno è regà sabato ah sabato ecco ok le persone che fanno le persone che lavorano che tutte su cod dai cazzo si ragazzi allora mettiamo un po' di rap fa un po' di tecno che non ce che volete tecno è un po' di tecno non c'è non c'è non c'è non c'è e e e Grazie a tutti. Loriana, da quanto tempo? Quanto si svedda? Tavolo! Ragazzi, ma questa cosa non deve stare accenduta perché ce l'ho fatta? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao! Watch me! Anthony, what is this? Ok ragazzi, andiamo controle. Secondo me ci vanno i demoni, ma non fa niente. Cazzo, mi sono buttato ancora in anticipo, vabbè. Uno, due, tre team. Ma piazza, quando serve, non te la dà, no? Guardate mi info, raga, dove sono? E io un po' salano sopra, 100-100. Al terreno posso dare. Uno po' guanto. Andrew Tate. Andrew Tate. Questa? Non sei tu. Avete la skin uguale, cazzo. Wow. È due sotto, raga. C'è la mia pericolo? Orco. Ma piovevo di fermarti. Due sotto? Sì. What's up? Vado? Inverso tender, raga. Perdite dati, 20%. Che gente attende? Me lo da buttare al mare, raga, che devo fa'? Non manco mai il bersaglio. Sono in arrivo. Sono living, raga. Andiamo? No. Perfetto, perfetto. Di fronte a noi, di fronte a noi. Ok. Ieri noi, aieri noi. Cazzo. Mi riesco a giocare così, raga. Ma così che è successo, raggi? Bravo, Babbo. Così si fa. Let's go. Andre, quando ci sei, dimmelo che fai host. Bella, Paolo. Ciao, Pier. Io con i miei soci abbiamo gli occhi bordo. Mettene con uno. Bravo, Babbo. Vengo da voi. Fino a uno sopra. Dovrebbe stare sopra. da me. Saffato. C'è un nuovo video avanzato. Ah, c'è un nuovo video avanzato. Faccio di equipaggiamento innato. Da c'è una gente, c'è uno. Si è accato uno, la c'è stata una. Levati levati Un'altra ragazzi Due 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 L'ultimo No sono due Ragazzi restano Ok no no Vabbè l'aspetta Sono due team diversi C'era il due sopra Non sa dire Bravissimo cazzo Let's go Vada all'oddy Mettimi stai cazzo Il gioco di merda Ancora gente di flotta Ti aiuto Soltato nemico Soltato! 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 Soltato sopra Beweggi Per far rientrare gli altri c'è no c'è gente dove adri fatto fatto pusciamoli otto altre due altre due sopra un altro team che ha bisogno di piastre a terra ma laghi da prison bubble ti fa no 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 che è successo riavviato in modem ok andrei entriamo da te dove sei tutto vedo ok raga venite chi è che va via si lagga su cod sera bello sto gioco andrei e mi ciao buonasera sei pronta a prendere il pesce tra poco voglio fare un po' di reddito va bene aspetta che abbasso vai vai fai quartetto rebbeer ti ritorno quartetto ragazzi perché oggi ho una voglia di pusciare infinita non è colpa mia dove sei stata prof? rebbeer ti ritorno quartetto ok aspetta crasciato crasciato non penso che è la palloma ciao luca buonasera ragazzi vuoi che l'oddy stai usando ragazzi infatti ho visto che si è crasciato cioè si è uscito vai no dio no vai indietro scusa vai indietro andrea scusa vai buonasera cristian ciao palloma buonasera succede anche pro player bacchiamo tutto proviamo la sera non è facile infatti fine settimana ancora peggio tutti è stata anche su coda ad ammazzare la gente c'è la pinga la partita voglio voglio giocare anche un sacco modo non ho toccato il wireless solo il joystick we andreoli buonasera ciao 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 Ehi ragazzi, ora sono accadonati. La mia classe preferita, Cristiana, sarebbe il TAR con l'arma guerra ora, è quella che uso principalmente sempre. Di assalto non uso niente ora io. Sto provando l'automato, non ho fatto il settaggio, ma ancora riesco a farci un game. L'automato. Bella Cristiano! Pronto? Sì, ci sono i fenomeni, i lobby. Vabbè, facciamo i lobby. Sì. Ho il carrello. Prodiamo al 200 per lo vivi. Secondo piano Bene ti saldi per l'ovvi raga Non te lo spicci Mamma mia Uno Vado all'ordi raga Dai calma Ragai non ho mitraglietti a fine Non ho mitraglietti a fine Basta 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 Non ho mitraglietti troppo morti Troppo Non è stata una buona idea Contro il piccolo La guerra è forte ma la nuova mitraglietta è Due due Eh due cerro Non ce ne so Niente raga è testo qualcosa Nuovo aggiornamento Quando l'hanno fatto ieri sera Ieri Ah si si perché Troppo differenza Troppo differenza Si vede che è troppo forte Questo team ha solo quest'arma Capito Ma perché si ha No perché si ha No perché si ha Ma perché si ha Ma non è Ma perché si ha Ma non è Ma non è D'accordo Non so Non so Quando ci sono Tutette raga No C'erano Quattro Tutette Vado via Qua è Bella Pertta Vado 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 Salgo Vado No Vado Vado No home He He È Che Vado A terra ragazzi, terra su control Eeeh, c'è l'incontentità, c'è l'acqua E' l'acqua che si spara, non c'è l'incontentità C'è l'incontentità C'è l'incontentità C'è l'incontentità Vedo un cazzo, raga C'è l'incontentità Mi sentite? Quasi te Ti sento? Mi sentite? Eh? Raga, tende, tende, tende Grazie Bravi Mi larga, vaffanculo C'è l'incontentità C'è l'incontentità Un'altra 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 nella raga la mia arma guerra qualcosa che non va vi giuro ragazzi non potete dire se non è fatto l'arma guerra andrea lo sai che qui mi domani no no il pp è troppo forte c'è qualcosa che non va tutte le armi sono più forti delle mie questa cosa non mi piace non mi spieghi che stai combinando dalla mattina da sera cosa fai ancora al bar vai ora si può vedere il pp è fortissimo si si no qualcosa che non va con l'arma è rotta è rotta non va bene raga così dobbiamo saperlo queste cose ma la cristiana c'è antonio buonasera bravo fai bene sì Lorenzo abbiamo giocato in multi prima se vuoi se entri la giochiamo ancora è malato tutti con l'arma ma quali pp tutti con il pp stanno io avevo scritto sul gruppo telegram infatti non riempito avevo detto se qualcuno giocava al multi abbiamo fatto tutti contro tutti e gioco delle armi le robbie ha perso tutte le partite ha preso il pesce come sempre sono stati tabulizzata dai supporter ragazzi adesso basta adesso win ora manca qualcuno no no luce no luce no luce no luce raga vado via contro vado via contro ehm ti chiudi aria il psh quale è quello di raga è il psp raga è il psp è il psp capito voi dite che è il pp ma secondo me è il psp no 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 il pp anche adesso ragazzi c'è stato c'è stato qui qualche info su internet lo voglio eh eh ma come sei bravo grazie no porco didu raga una terra due sotto maremma bobbibba maremma bocaiola eh 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 no non ho piacere non ho niente questo è ok oh 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 raga audio tutti col pp bella Antonietta ciao grazie per il like Antonietta non so se sei la mamma di Martina raga cambiamo la zona e facciamo il loadout se no qua non andiamo in nessuna parte proviamo ad andare qua anche se la save fa arriva raga ci provo poi non lutta e poi non lutta pure eh che sono al minuto giornale sopra ma Ragazzi io faccio il load out Ok ping azzurro faccio il load Ok Non ci lo shop Infatti non ci lo shop Ok andiamo avanti Nessuno lo shop portatile Beh andiamo prison Speriamo che non c'è nessuno Speriamo in pista Oh ma sono le ore Grazie Sul tetto Sono sotto tiro No da me da me raga uno Non venire Adri Ma dove sta? Allora facciamoci sto pp ragazzi Uscite un attimo Chi è che c'è il settaggio di questo pp? Dove lo troviamo? Dove lo troviamo? Ti facciamo il pp ragazzi? Eh dove lo fa? Dove sta? Qual è? Stato io ropeste Vieni qua Cerchiamo Ma di black ops no? Sì vanguard Vabbè Da quella sta Allora Allora Ppsh Quale però? Di quale gioco? Di quale gioco? Vanguard 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 ok Vambulgitore di rinculo Poi Canna Yes Canna 230 Ok Ottica vabbè la strappertente Calcio rimosso Calcio rimosso Poi sotto canna Fermo mano Fermo mano Ok Caricatore 71 colpi 62 Esatto Munizione allunga No Spera Caricatore 71 colpi 88 mm Munizione che metti? Punta cava? La prima Punta cava sì Il caricatore è il primo Dei mettere Sì E impugnatura? Punta cava Resinato vegetale Mamma mia Che schifo Mamma mia Plessa salta E celerità Resina Vegetale Mamma mia Che arma No ragazzi No Che cosa ho appena visto No giuro È Sgravata Ah E in botte quant'altro Il grosso Vuoi te metto lì No Fa schifo Cioè io la uso Plessa 1 che ci hai messo Plessa salta Plessa salta Sotto canna Che ci hai Fermo mano Fermo mano Ok Perfetto Mamma mia ragazzi Che vergogna Come silenziatore Però io c'è Solo stabilizzatore Perfetto E spegni Fiamma Con voglia No Ah Con voglia Di rimettere Eh non ce l'ho Ah cazzi tu Eh abbassi Mettere uno Eh rubo le mostre Rubo le mostre Zzzz Quanto sono simpatico Però a livellarla Vedi i giochi Simpaticissi Ora mi scarico il Bangor Mi faccio L'imimitico Sotto canna Allora Sotto canna ferma mano Giusto caricatore Il primo Allora Punta cava No Sì Punta cava Punta cava Proviamo Vediamo che succede Vai adesso lo ritorno Parca 3 L'ho L'ho Unciottato Antonio Oddio ma raga A me stavo giocando Sensibilità 13-13 Ecco perché No Ti odio Babbo Sì vabbè Ma ci sta vabbè Io gioco a 18 Io 10-10 Massimiliano Ma che cosa è questa roba Ma che vuoi Io non ti conosco Williams Kane Ma scusami Williams Kane Io ti conosco Chi sei Monaco 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 È uscita 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 Eh niente Sanna mia Devo sbagliarmi nel commento Sbagliato È fatto lo screenshot Laura Cosa dice L'arma guerra Dice Perfetto ragazzi Io ho fatto tutto Cioè io l'ho fatta l'arma L'ho fatta sia sull'automaton Che sul car Quindi tutte e due Ritapora sistema di rari Ritapora sistema di rari Perfetto ragazzi Perfetto ragazzi Sì Laura Assolutamente Ciao Roby buonasera Ui vuoi provare? Ragazzi no andiamo dai quando vi prego Ah bene Sono sporca di Nutella in live Lo sveglio non sa perciare No, no, no Urgenti sa perciare noi Perchè non ho regalato due da mea? Nooo Oh Roby sono contenta infatti Dai rimanete in live Parliamo No Andrea così no ho fatto Allora famo una cosa regà giochiamo più uniti Fammo serlo d'out Non l'ho proprio visto Abbio? Abbio come va? Abbio regà mi sa che non va No Guardate che magia Vado alla doccia e mi do i soldi ci credete? Ci credete? E ora solo questo Io voglio di più Avete visto la magia? Ancora Basta regà i soldi mi ha dati Mi ha dati 4.000 Facciamo un'out Per chi non lo sapeva Boy's Abyss E' un bel manga? Di che parla all'incirca? Cioè è un E' uno di che manga profondi? Raga soldi soldi Ah lo avete fatto via Lo d'out Raga Avanti Ok ok Andiamo avanti Avanti o dietro? Eh raga Sto venendo da voi Dai Sto venendo da voi Ok Sto venendo da voi Sto venendo da voi Raga avete gente Vi dovete muovere Lo d'out Lo dobbiamo fare dietro Non avanti Perché qua c'è un team Eh ma qui in soldi Allora però Eh ma ce l'ho io Ce l'ho io Però dobbiamo farlo dietro Eh ma voi ce l'ho andati dietro Eh ma voi ce l'ho andati dietro Perché è giusto farlo dietro Infatti Eh infatti guardate Tutto di noi Pupin Dai Pupin faccia Dai Pupin faccia Fatemi vedere Pupin Pupin Dobra Bravissimi raga Bravissimi Non dovevo morire Vabbè non hai visto niente Lui allora Dai Eh c'è A volte mi rischia Una cosa assurda Un altro Ti curo io No 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 a te No a te porca Troia Voglio prendere il cecchino Per farlo Non mi pare stare Arrivo 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 Da me da me da me da me bubble Vieni venite Bravissimo Grande Oh mi va Lagga di brutto Non ci sono poteri Eh vabbò però Da sopra da sopra raga Sopra di voi Qui di qui sopra Ok delta Benannico KK bubble Sopra di qui Da sopra raga di qui Sono molto scorrebili In cui ci sono molti colpi di scena Ok Ok Che a me mi piace un sacco Non so perché Mi piace la magia Raga io Raga io provo Andare a loot out Ma Boh Raga è tutto perito Non c'è gente Passarelle Passarelle Bravo Oh marco Dove info Datemi info Sono da lì 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 Sotto Adri sotto di te Raga io non ho più muni Non ho più niente Voi? Ah io non ho più niente Eh Che cosa avete da fermi? Allora raccontare i bordelletti Non avete niente da fermi? Va bene Me ne vado a prendere da sole Arrivando un nemico Di fronte a me Cazzo Come quando e perché? Che mi ha detto questo? Cazzo Cazzo Faccio io Cassamuni Voi fate V Va bene Cassamuni Non mi serve più Guardate Se mi dite che voi Colpi cecchino Andrea Colletta Eh Non ce le ho Dovevo fare Me ne dati Me ne dati A posto così Web Te li ho messi Tieni i soldi Fai l'web Oddio dolfo grande Trigun Grande Avete visto che Chi Ragazzi Gente di fronte Giuseppe Maria No Ragazzi Control 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 Tanta gente Ma così tanta che Attenti a entrare Non c'è nessuno qua Guardate l'altezza Mi piace di più Lo sapete Andrea Puoi restare Puoi restare Andri Lo shop Sì Ho i soldi Ci provo Wow Avete colpi cecco Bubble Bubble Non ti sento Mi è mutato Ero mutato io Dicevo no Sì Al culo Mi è mutato io Mi è mutato io Mi è mutato io Mi è mutato io Uno qua Torno Uno sul tetto Va sotto Bravissimo Bravissimo C'è chi era qua C'è chi era qua C'erano piastre No no Sono lanciati con il palloncino in volo No No Oh goddio A me ha dovuto mirare No è ben simbato A me ha dovuto mirare Oh scusate Arriba il gas Marco la nuova zona sicura Gente a destra No Qua dentro Tenda Mannaggia Qua dentro Vuol dire C'è chi era C'è chi è po Un shot Un shot Un shot Yeah Buttato Gas in avvicinamento, nuova zona sicura Gas in movimento Sta arrivando un nemico, attenzione in alto No ma porca la troia Il pipì fa paura Aveva il Bruen, il Bruen è fortissimo Cioè il Bruen fa paura, bell'arma aveva anche lui Marika il pipì l'ho appena fatto L'ho appena, cioè è la prima volta che lo utilizzo Dai, fai in gioco ancora Let's go, bella ribò Ciao Marika Adolfo, grazie mille per le 50 Sei gentilissimo Grazie mille Adolfo ancora Ah è vero il PKM, bravo Tarto Marika L'ho appena fatto Appena vado in Per l'obbio te lo faccio vedere Grazie per le 50 Ciao 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 Ragazzi spengo perché mi bruciano un po' gli occhi, cioè più che altro se stanno. Oh ma che cecchino ti ho tirato! A presto le nazi, la fronte rete dei piedi nemici. Aie Poteva essere win questa Bella Non vedo nada Andiamo Dove dobbiamo andare sempre Dove il nostro destino Deve andare Raga sono almeno tre team C'è un soldato E uccidere tutti i nemici Dove Non c'è un soldato, non c'è un soldato. Sono un coglione camperato, compa, ti ho fatto una tornata che te la sogni di notte, no? Che sono una coglione camperata, hai capito? Hai sentito più quello, orba? Cioè, io sono una coglione camperata. Ma ti ho fatto una tornata che non lo so. Raga, soldi, soldi, lo shop. Andiamo sul tetto. No, 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 no. Fia, che si può niente, questo è lui. Che c'era un coglione camperato, lo sconti, 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 lo sconti. L'auto sopra. Arriva Andrea. No, no, no. Hanno fatto qualcosa? Ah, no, no. Fatto? L'ho fatto loadout? Mi stava per fare a me. Vai, vai, Andre, fanno tu loadout. Tieni soldi. Tieni soldi. Soldi qua, soldi qua. Adio, adio. One shot. Quattro. E il gas è sempre più vicino. Allora, stai indeccio, gente? Sì, sì. Tieni, fatelo a via, raga. Oddio, quanto laggo, wow. Soldi allo shop con me. Fatto Wavie, cos'è che volete ancora? Wavie, tienilo, tienilo. Wavie. Eh, no, Wavie l'ho già mandato prima. Lo prendi e te lo tieni. Hai capito, Andrea? Te lo trasporti, proprio. Prima di prendere la cassa a muni, avrei. No, 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 sono due cose diverse. La cassa a muni la porterà anche con lui. Ma come è arrivato? Wavie, l'hai fatto? Beh, avevo già preso la cassa a muni. Sono scommati, se sarebbe... Angola. Vivi, in vero? Cosa è grande? I rinforzi sono in arrivo. Vado con la pushar, raga, living. Dove vai, Babbole? Eh, sono. Eh, stanno lì. Questa è grande piena, eh? Non vedo nessuno. Atto. Quanti, Adri? Ah, sì, in arrivo. Ah, è tre. Qua, 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 qua. Sotto. Mannaggia. Non mi scivola, molta barca. Non mi scivola, molta barca. Porfa, la paventa. Oh, no, 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 no. Ma tu dici, sei l'osso, io già, addio. Ma sai perché? Perché io penso di essere io. Dico, ma come cazzo è possibile come sono io? Oddio, questo cavo si è rotto, basta. Allora, Roby, in realtà oggi, cioè adesso non mi sono, non sono confident, non so perché. Sarà perché mi hanno cambiato tutte le armi. Cioè, nel senso, io uso l'arma guerra e il car. Col car mi sento confident. Con il fight da vicino ho aumentato la sensibilità e forse è quella. E in più il fatto del pipì è fortissimo. Cioè, rispetto all'arma guerra, io non sono manco abituata a sparare senza mirare. Infatti, personalmente, mi fa troppo strano. Cioè, io non ho mai giocato così. Mi sembra più una cafonata. Però vabbè. Adesso spari senza mirare? Sì, sì. Ma volendo puoi sparare anche mirare? Sì, io miro da lontano ma da vicino sparo tipo come una cafona. Ma io non ho ancora. Sì, Luigi, vorrei farlo. Non sono sempre arrivato. Non sono sempre arrivato. Bella Ale, grazie per il like. Non sono sempre arrivato. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora no, è una fuggia. Bugia. 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 O scende il mondo o non scende nessuno Non c'è più di mezzo Facciamo il loadout raga sotto Tutti col pp let's go mamma mia che è brutto raga quando l'arma sulle porte capito Devi morire male Potendo verso Ma dov'è? Dov'è il sasso capone? Mi spazzo! Un inimico tirà la casa, sopravvi Ascol Dio Intanto è uguale Punto esclamativo clip ragazzi Questi fanno non ha capito niente Manco di che pianeta sono Io non ho colpi vecchino questa cosa è orribile Qualcuno di voi li ha per favore Da dove info raga mi dovete dare l'info quando vi fanno Non lo so roba da dietro da sicuri penso Non lo faccio chianto del nulla 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 Uno sono 8 a retta Mi buscano? A me? 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 ragazzo di noi ora li lancio il grappolo su Torre nooo mi ha preso mannaggia arrivando anch'io io ho lanciato il grappolo ma è l'ora di morire andare che c'è un puntino qua sotto one shot one two two three busciateli busciateli uno lo shop allo shop allo shop è qua scioglie, scioglie sto coso scioglie sto coso mi piace mi piace e io non ce l'ho non ce l'ho neanche livellato troppo gentilmo qua mi sa sotto faccio la città a Torre ancora l'ho comprato ragazzo fatto qua sotto fatto qua sotto qua sotto dove? non so non so due qua ragazzo due da me non c'è per fucile se servono non li vedo lo vedo ciocchino bravo un altro un altro guarda più avanti da no andiamo contro hanno arrestato raga fatevi i soldi fanno schifo 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 bella gabriel big notorious a roberto hai capito ragazzo un sacco di italiani in questa lobby meglio così ci sentiamo besteggiare bene io non c'è più l'altro sono un sacco di italiani io vado a pick io vado a pick no ah non è caldera no era caldera andiamo ragazzi che abbiamo appena carriato welder ma io non capisco ma tu sei un rapper uno streamer attenta andresi stesso attenta andresi stesso posto raga un rinforzi attenta andresi stesso Info Contra il sottotipolo Uno nel camion Non ho armi da lontano Perchè non meritate? Dammi i soldi Ho beccato l'unico che non c'è niente So povero Non chiedo niente Soldi? Adri soldi? Per favore che c'è i soldi Ma io c'erano le armi Ho trovato la cassa Gente sopra E buttati dai che morbido E che non ti affacci che morbido One shot Mamma mia Let's go No sono un operaio Ok Welder scusami Avete piastre? Nozzo Oh ragazzi Tre navi Le compro? Non le compro? quasi in arrivo uabili coattivo vabbè uap il testo abbiamo salito dammi 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 non lo vedo l'ho messo one l'ho messo fatto che stava facendo dormiva c'è uno qua sotto e qua sotto uno l'ho messo e si perciò ieri uap raga vedete cassa piastre qua che ho io per piastre facciamo questa cosa luminoso facciamo non la buttate insieme prima una e poi l'altra di fronte di fronte secco di fronte la babbo non mi restare penso a lui fantastico non dire niente non dire niente un altro qua uno tende nella prima casetta a destra un po' lasciate perdere un soldato wow fantastico ha trovato un'arma fortissima che la boss vaga bravissimo ragazzi quell'arma si chiama boss bug e non si può chiamare in maniera diversa obiettivamente dai butta la buttata che scoppia andrei scoppi se non la butti piastrati pure cene dietro ciao nico martina ragazza però manderanno di battaglia o no siamo a sicuro dov'è che sono dove avete bisogno di aiutare guardate l'ultimo fatto 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 non arrivo ma riprendermi le armi ragazzi vogliamo fare cassa munizioni per favore la città di carrella facciamola sopra la guardate va sotto ok vengo da voi cassa munizioni cassa munizioni avete fatto quel discorso no domanda c'è la più gente l'ora tira il cecchino raga è dentro la penna dove stanno al di mamma mia mani ma ce li vede ancora ragazza usciamoli dato un po' b butto ho scaduto 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 vabbè corsa ragazzi avrà di me guardate capitanica l'uomo è tornata l'uomo è tornata l'uomo è tornata armi alla normalità finiti raga da sopra andiamo 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 sopra io sono andando nuova non ascoltate se solo roba stop torre ce n'è uno 70 ma un po per i sono pure furtivi ma qua ce n'è uno guiderò io dietro raga vi prego one shot una terra l'altro ve li fate ve li fate pusciateli l'altra terra sotto a destra qui andrea non farvi troppo lontico e l'ho fatto questo ma ce n'era un altro se si è rossato non ho mandato la villa bella cristiana questo però cerchino ma è morto sono due da voi raga è morto no ci sono io grazie ci avete sopra raga raga è sotto è sotto è sotto è stato uno è sotto qua a destra grappolo 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 raga piastra ce l'avete? c'è la cassa qua ho trovato la cassa raga tutto a destra a destra a sinistra a sinistra raga siamo quattro contro tre proviamo sto cerchino dove sei zio? raga dove cazzo sono? uno qua? uno sopra di me? mamma mia mi ha spaccato mi ha spaccato raga mi ha spaccato raga mi ha spaccato mi ha spaccato mi ha spaccato poi si vado a dormire stanotte raga mi ha spaccato 2 contro 2 raga 2 contro 2 state uniti ce l'hai tende andrea non lo vedo state vicini vi prego non è che uno push l'altro non aiuta andrea vai avanti vi sta pushando bubble a destra dietro andrea dietro va bene va bene va bene va bene così ragazzi questa sera le lobby erano infernali allora io staccheggio vado che sono stanchissima ragazzi grazie per la compagnia serale ci voleva la prossima volta vale un po' più di molti però ne abbiamo assi di più ragazzi abbiamo 10 così facciamo cose fighe ragazzi grazie per la serata vi voglio bene buonanotte un bacio a tutti mi vado a sparare un po' di un po' di qualche serie qualche anime mi vado a vedere va un bacione ragazzi passate una buona serata grazie per la compagnia ciao ciao boys and girls ciao 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 oh Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione